I viticoltori molisani abruzzesi sono in grande difficoltà a causa della diffusione della peronospora, una delle malattie fungine più aggressive che può causare gravi danni alle viti e compromettere la qualità delle uve, rischiano di perdere tra il 60 e l'80% del raccolto. La situazione è abbastanza drammatica, c'è una variabilità generale sugli attacchi peronosporici che ci sono stati a seguito delle piogge che abbiamo avuto nel mese di maggio e variano essenzialmente in funzione della varietà e anche del territorio. In linea di massima gli attacchi peggiori si hanno sulle varietà tardive come Montepulciano, Agliani, come anche altre varietà hanno subito danni piuttosto importanti, soprattutto varietà nere. Quindi Merloca, Bernet, Aglianico. Con un crescendo esponenziale, oggi la diffusione della fitopatia è divenuta emergenziale ed ha compromesso definitivamente la consistenza dei grappoli colpiti. Per questo Confagricoltura chiede l'attivazione di un tavolo tecnico che proponga delle azioni di ristoro sia in ambito nazionale che comunitario. Sicuramente ho una grandissima attenzione al settore agricolo, c'è necessità di ristori. Sappiamo che la situazione non è proprio delle migliori e ci rendiamo conto di quelle che sono le difficoltà però chiaramente ci sono aziende che basano gran parte della loro produzione proprio sul settore viticolo e vitivinicolo e quindi con un'annata con quella che si prospetta, con la prossima vendemmia chiaramente ci saranno delle perdite piuttosto importanti. Grazie. 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 Grazie.